...perchè mi servirà giusto un miracolo per arrivare al lavoro in tempo. Arrivare, dai! Il traffico era... Avete già mandato gli spot? Il tuo è un bel servizio, ma abbiamo scelto il pezzo di Evan. E così è perfetto! Che fate laggiù? Andiamo, su! Bravi! Lasciate in pace quel poveretto! Come va? Stai bene? Sì, è meglio che girate a largo, eh! Cosa? Che cosa hai detto? Scappiamo forza! Scappa! Dividere la minestra non è un miracolo, Bruce, è un trucchetto. Una madre sola che deve fare due lavori e che trova ancora il tempo di accompagnare il figlio a scuola di calcio. Quello sì che è un vero miracolo. Un adolescente che dice di no alla droga e dice sì all'istruzione. Questo è un miracolo. Le persone vogliono che faccia tutto io e non si rendono conto che sono loro ad avere il potere. Vuoi vedere un miracolo, figliolo? Sì, il tuo miracolo. Aspetta, che fai? Vai via! Sì, penso che tu sappia cavartela adesso. E se ho bisogno di te, se devo farti delle domande! È un tuo problema, Bruce. È il problema di tutti quanti. Continua a guardare in alto. Grazie, molto gentile. Ah, nessun problema. Volevo dirti che sono stato antipatico e insopportabile. Il posto di Anchorman è tuo. Io l'ho rifiutato. Non ti avevo nemmeno fatto le mie congratulazioni. Per presentarvi la futura Mrs. Exclusive, Grace Campbell. Eccola qua! Guardatela! Non è bellissima! Appena donato il sangue, ne ha ancora abbastanza per arrossire come una mammola. Eh sì, dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi al cielo, gente. Sono Bruce Nolan per Eyewitness News, con tutti gli amici qui della donazione di sangue, che vi ricordano... Sì, il tuo miracolo! Mi avete sentito?